salve su peppe allora vi volevo solo avvertire proprio come un avvertimento che sabato 28 maggio io sarò a maddaloni al new dream sarebbe questo sogno nuovo di stare a maddaloni appunto quindi verso le alla voltata delle 23 io comincio voi venite poco prima sennò il solito che cosa nostra che ci andiamo facciamo più tardi è un sabato sera ci andiamo a divertire con parecchie scemi da gli aspetto a maddaloni al new dream